Ciao ragazzi, come state? Tu sai che ti sei fatto? Allora, siamo bullizzati Tutti infortunati stasera Abbiamo palesemente visto come ZV Jackson ha deciso di Provare a strapparci un pareggio No, no, fermi, fermi Ma che ti sei fatto davvero? Allora No, è una distorsione che probabilmente Mi ha preso i legamenti e dobbiamo aspettare I legamenti Ci sta, spacca Dobbiamo aspettare che mi si sgonfi Per vedere se si è lesionato qualcosa Ecco, minifratturata Microfratturata Però non si vede Il cavalletto rotto a 5 euro Però t'è spento Aspetta, dobbiamo farlo Come su 13 c'è il telefono a pacco vai no 3,2,1 si si ma come fai a giuramelo come fai a farle a comando scusa ma non puoi aver fatto vedere il numero bro perché ce l'hai salvata no no si si no la salvata prima ma cosa sta a lui te lo giuro sulla mia vita potessi morire ora e cosa ti ho detto fermi fermi ti ho fermato per eccesso di bellezza oh porca puttana ciao ha spaccato non avevo niente né patente nulla come non dirlo che sta che non so bene bene perché ti ha fermato la polizia perché stavano facendo il posto di blocco e Anna fa vabbè siamo due ragazzi ti pare che ci fermano perché stava spammando avete visto che mi sono fatto male si anche io guarda oh che è successo ho fatto la data sua no cosa hai fatto per me ma poi che foto bruttai come immagino il profilo su whatsapp basta oh patetico sei patetico davanti ai miei occhi ma mi sta di che sto brutto sulla foto per il whatsapp lo so io da bambino ah si bruncato la presa giro ho detto no raga voi non avete visto la foto vado a vedere la foto per il video di pat tieni tieni la faccio vedere io ma scusatemi no no è bruttino Simone sapete cosa ha detto nel backstage in questo momento? ma cosa cazzo dici? mi ha dato un bellissimo uomo data v ecco a ritorno ti vengo a cercare sapere ti vede? e ti vengo a cercare se mi lascia normale cioè ma ti vede io ho chiamato uno così che mi ha risposto ma che cazzo vuoi? non ho proprio visto che ti hai fatto male la caviglia sinceramente io mi avete chiesto in tanti come leccare il troll allero faccio questo video con gli occhiali da sole e senza filtro come dite sempre perchè lei usa il filtro no non lo uso quasi mai in realtà è 41 40 quasi 40 no ti ha fatto scarico prova che schifo c'è Martino l'ho sputato a modo mio cioè facciamo vedere se era al Penny Market e al Penny Market bisogna acquistare delle ragazze o dei ragazzi bisogna? acquistare delle ragazze o dei ragazzi ok io ti trovo nel reparto verdure tu c'è una zucchina te la metteresti nel culo? no ok tu? tu? che cavido oh mi pizzica tutto il corpo dove bisogna? shh tutto giuro eh dove bisogna? oh oh eh hai bisogno eh l'ho uccisa per attirarti eh capite ti tiro lo schiaffo dopo e dico l'ho uccisa au rime vediamo va che roba schifosa a me piace un botto il trucco rosso fai vedere come limoni una ragazza tutorial io l'ho visto anch'io anch'io si è fatta quella tipa coglione chi era il tuo tipo? 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 ma rosarici che schifo scherzi primo passo è quello di avvicinarsi in maniera non inquietante tipo così che tuttavia è merda ok il secondo è quello di battere il contatto più vivo? il terzo punto è quello di il terzo punto è quello di il terzo punto è quello di cazzorini il terzo punto è quello di dialogare con la persona dietro ok chi viene fra? lo sei te? tutto il posto giù si stacca oh pa dove sta youtube qua? cerca coglione silenzio il quarto punto è quello di punto? oh coglione primo passo è avvicinarsi in maniera non inquietante il secondo passo è fissare eh però sta ridendo no ha fatto una battuta cima vai con me poi il secondo passo? guardare la persona dietro aspetta aspetta dire lei è mia il terzo passo qual è? il terzo passo è quello di parlare con la persona dietro aspetta il quarto? il quarto passo è quello di di allontanarsi ok? cioè di allontanarsi la persona perciò si deve girare perchè si deve girare sei tu guarda lei secondo te dai c'era il mio infertello mi muori meglio qua che in disco il tuo sistema mi colletto tre anni fa mi ammanacciati 3 anni ammanacciati hai capito il polso il polso il polso ti aiuterò ma se ti faccio godirci